Porca puttana. Queste masse stanno in posizione. In cammino. Non dovranno averlo a plazzo. Fantastico. Iniziate a progettare tutto. Quando ho messo piede in questo posto. Samuel, datti una mossa. Dobbiamo fare in fretta. Porca miseria. Un pedaccio di piedi. Abre la porta. Nunca saldrás di aquí. Sì. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Tieni. Vi servirà. Tu ti ricordi come si usa? Mi tornerà in mente. Apron tutte le porte. Questa. Hector. Se lo fai, scolpirai una cazzo di rivolta. He he. Esatto. Pagalo. Vengece, Luisa. Pagalo. I food! I food! Esep... Nopciano non legala. Siga! Słuppe! Saga, me fai! TSicculo? No! No si! Lo dejen espumar! Samuel, arribaro! Déjenos passer, y los dejamos vivos! No lo veas, atténlos a tutti! Piano, sta funzionando. Vedi? Lo vedo. E adesso? Estamos in posizione. Estan listos? Si. Busquen donde cuore. Samuel, escondite dietro qualcosa. Cosa? Perchè? Pallo e basta. Stai bene? Si. Si, sto bene. C'è te, gringo. Vattene, figlia di puttana. Parza. Si. El escale. Lo contraímos. La verde. Vei un momento. Siamo arrivati! Il area sta assegurato. Alla bene. Samuels, riparo! Samuels, tra un minuto faremo liberi o morti. Siamo arrivati! Oh, merda! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Samuels, stai dietro! Siamo arrivati! Che vacca! Siamo arrivati! 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 Sì. 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 Agua. Tieni, Samui. Bevi. Oh, no, no. Sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi. Sei desidratato. Forza. Bevi. Grazie. Allora. Che vuol fare, Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò il mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì. Certo. Quindi... Quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dove? Sì, al... Certo, ok, ma... Senti... Non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X? Detengosi a chi? Ma ho degli ottimi vizi. Ok. Aspetta... Aspetta... Aspetta un attimo. Ehi, servo! Tu mi gusti, Samuel. Ma soprattutto... Ti ho creduto. Ecco perché tu sei a chi. Posso... posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cucino. Vedi... Il problema è che... Si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io... Lo troverò. Quanto? Sei mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. Tre mesi. Tre mesi è impossibile. Tre mesi. Metà del tesoro. Puoi farcelo? Dillo. Tre mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi... Se provi a nascondere il tesoro. O se fai qualcosa di stupido con me... Avvisare le autorità. Lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto... Non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora... La città più vicina. E a dieci chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato... Che faccio? Tranquilo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi... Alcasar mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Reif e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di San Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Everi non c'è. Ma questo non ha fermato Reif. Quell'idiota ormai scava da anni. Non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Ma sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... Beh... Scommetto che Reif questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di San Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh, merda. Questa è intatta. Everi ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... Molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra tre giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci. Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, non serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Oh, no. No, Sam, giuro. No, non posso. Ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo che? Non saprei, tipo... Chiunque. Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. No, no, no. Assolutamente no. Non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam. Ci sarà un altro moto. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao, tesoro. Sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E... ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla cruce di Ebery, ok? Non lo so, non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Sam... C'è chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati. Va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan. Parliamo dello stesso Victor? Sì, in passato ha fregato qualcuno. Ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, 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 ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene, va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterei che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie.